Ciao a tutti amici ballerini, ben ritrovati, io e Michela del gruppo 051 Dance, siamo qui questa sera per farvi vedere un balletto, il balletto non è nuovo, è di circa 3 anni fa, però è ritornato di moda e si balla di nuovo perché è davvero carino, bello, divertente da ballare, quindi è un merengue, si chiama Fiesta, la coreografia è di Ole Mancini, quindi adesso andremo come sempre a vedere prima la spiegazione dei passi e poi dopo il balletto intero con la musica, sono 9 sequenze da 8 passi ciascuna, alcune sequenze sono uguali come vedremo e cominciamo subito con le prime due che sono identiche, quindi si parte andando verso destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si ritorna indietro con gli stessi passi come avete visto sul 4 si alza la gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono altre due sequenze, la 3 e la 4 che sono uguali e si parte con il passo destro indietro e si battono le mani per un totale di 4 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a questo punto c'è una sequenza ciazza e parte con il destro, sinistro, destro e sinistro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dopo la sequenza ciazza arriva la sequenza dei passi incrociati, le prime due sono uguali, si va avanti e si torna indietro, invece nella seconda c'è il giro, quindi andiamo avanti con il destro, girandoci circa di un quarto di giro, quindi si fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arrivano le ultime due sequenze che sono sequenze più carine del balletto, perché sono le sequenze tipo Pulp Fiction, del balletto di Pulp Fiction, del twist del film, vi faccio vedere da davanti come sono fatte, perché si sta fermi dondolandosi e si muovono le mani con le dita aperte, facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questo ve l'ho fatta vedere da davanti perché si capisca bene, adesso facciamo l'intera sequenza da di dietro, quindi abbiamo finito con la sequenza dei passi incrociati del giro, adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il balletto a questo punto è già finito, adesso io e Michela vi faremo vedere l'intera sequenza senza la musica, senza fermarci e poi dopo vedremo il balletto intero con la musica, ok? si parte? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a questo punto il balletto è finito e si ricomincia tutta la sequenza da capo. Bene ballerini, come detto adesso andremo a vedere il balletto intero con la musica, noi vi salutiamo, ciao ciao, arrivederci, a presto, ciao! Io te quiero vedere il baller, io lo voglio fare, io lo voglio fare, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info grazie Grazie a tutti Bene ballerini siamo all'arrivo Un saluto a tutti Io Michela vi salutiamo Ciao ciao Buon ballo a tutti A presto